Devo dire che vado a Roma abbastanza spesso e dopo massimo due giorni mi viene l'ansia di tornare a casa qui a Treviso perché ormai diciamo che la parentesi romana di vivere tutti i giorni, oggi non ce la farei più a vivere tutti i giorni a Roma. Vita e affari, la marca ormai è la sua terra. Dieci anni dopo l'abbraccio del Veneto della nostra provincia, la leggenda del tennis italiano, Adriano Panatta può bendirsi trevigiano d'adozione. È logico che Treviso non è Roma e Roma non è Treviso perché quella è una metropoli, questa è una città di provincia logicamente, bellissima, perché Treviso è molto bella e lo dico tutti quanti, poi è piacevole perché è una città molto civile, la trovo una città molto civile e io mi sono integrato completamente qui in Veneto e a Treviso in particolare. Dal tennis al paddle alla novità pickleball, il suo racket club è diventato ormai un vero e proprio luogo di aggregazione, sport, benessere, ristorazione, enogastronomia. L'adriano del tennis che ha saputo trasformarsi in imprenditore di successo. Il passaggio diciamo alla impresa come l'hai vissuto? L'impresa è sempre impegnativa perché questa è una società, un SPA oltretutto, che deve lavorare e deve guadagnare. Logicamente adesso noi abbiamo praticamente finito il periodo di start-up perché come tutti quanti sanno c'è sempre un periodo in cui noi abbiamo iniziato da zero, non è che qui fosse funzionante e abbiamo comprato e preso la gestione, no, noi abbiamo ricostruito tutto quanto da capo. Sportivo e imprenditore, per Panatta le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono un'occasione imperdibile, polemiche a parte. Bisogna smettere di fare il processo di intenzioni, no, perché dicono eh sì però se facciamo riempiti poi dopo si andrà a spendere troppo perché non sono, se uno fa le cose fatte bene perché bisogna subito pensare male, ecco, a me piace pensare bene. Panatta il tennis del 2024, troppo lontano dal suo a partire dalle racchette e da una diversa fisicità. I giovani d'oggi sono tutti quanti i giocatori che giocano in spinta, tirano molto forte, io dico sempre che fanno un po' a cazzotti piuttosto che giocare a tennis, però sono quasi obbligati perché questo è il modo di giocare oggi. Però giocano più o meno tutti quanti uguali, poi quelli che sbagliano un po' di più perdono e quelli che sbagliano meno vincono. E poi c'è quel sinner capace di riportare alla Coppa Davis in Italia e di agguantare l'Australian Open, un talento assoluto che secondo Panatta ha fatto bene a declinare il palco di Sanremo. Lui non gli serve andare a Sanremo, a cosa gli serve? Lui quello che ha fatto vedere sul campo l'ha fatto diventare un punto di riferimento sportivo e anche non sportivo in Italia. Per cui non gli levava niente né tantomeno gli avrebbe portato qualche beneficio.